Dando dei soldi per strada non si aiuta ma si amplifica un fenomeno. Basterebbe che i cittadini non dassero i soldi a queste persone e probabilmente il fenomeno si risolverebbe da solo. Padovani non fate più l'elemosina ai mendicanti. Il sindaco Massimo Bitonci ricorda ai suoi concittadini che ci sono altre forme di aiuto per chi non ha da mangiare o da vestirsi, comunali o convenzionate con il municipio euganeo, come le cucine popolari della Diocesi in via Tommaseo. La battaglia contro i mendicanti, soprattutto quelli molesti e insistenti, quasi tutti, dice Bitonci, in mano al racket dell'elemosina è appena iniziata e continuerà con più poteri alla polizia locale. Noi modificheremo il regolamento prevedendo una sanzione che prevede il sequestro dell'elemosina, la sanzione di carattere amministrativo, quindi un effettivo giro di vite su tutto questo fenomeno che era molto presente in città ma già in questi giorni è molto diminuito. La situazione nelle piazze sembra dare ragione al sindaco, oggi solo qualche musicista è un raro mendicante. Ma a poche centinaia di metri dal centro storico, alla Stanga, il fenomeno della Questua è ancora molto attivo. È mezzogiorno e tre dei sei semafori del grande crocevia a est della città sono presidiati da una donna che lava il parabrezza, un giovane che passa per le auto con un bicchiere di plastica e un uomo con stampella. Forse imparentati tra loro, chissà, quasi tutti gli automobilisti non danno niente, nemmeno all'invalido. Con il sequestro dell'elemosina e per la prima volta a Padova con il prossimo divieto di campeggio in aree private e pubbliche, l'amministrazione Bitonci punta ad allontanare i mendicanti. Ci riuscirà? Vedremo. Intanto, per esperienza personale, basta puntare per pochi secondi, anche da grande distanza, alla telecamera su chi chiede denaro, per venire invitati poco dopo dal diretto interessato a spegnerla. Finché sei qui, non posso lavorare, ha detto al nostro operatore un uomo che chiedeva l'elemosina nelle piazze. Una vista da falco o un palo che lo ha informato della presenza di una telecamera. E questo spiegherebbe il verbo lavorare.